davvero black metaller le intande le stelline davvero black metaller si taglia le vene davanti alla giro dai buona io non ci sono ma chi è questo finocchio che erano lì ok perfetto sei sempre il più bello eeeh ma cosa vogliette voi vedi ole no watercana ma adesso ho comprato oggi il cavo per cui adesso qua voi parlate pure di destronizzate pertanto poi alla fine non serve un cazzo perchè dovremmo suonare no si lo so che dovremmo suonare però no non spettiamo questo cazzo di cuore ma mentre mi scacco mi da fastidio che cazzo di cuore allora no che poi ci te l'ho detto che ho comprato il cavo per cui qua su questo video ma questo giornalista ha detto di me dove tu parli adesso no? però dopo non ti sente quello che dici ma si sente la canzone nostra facciamo ti possiamo farci la ripresa capito? non hai capito no sta cosa allora dimmi chi è che c'è al dimmi chi c'è il gods of metal c'è mia mamma mia fa e il mio fratellino lo c'hai ah eccolo lì bellissimo no dai dimmi chi c'è ci sono i mess of fate si ma tira via sta roba addio po i mess of fate metallica metallica come primo gruppo fia factory sarà qualche qualche stronzissimo gruppo power secondo giorno secondo giorno secondo giorno hai già finito? idet credo il filter si idet credo il filter e la cuna coil e hai preso il nome della cuna coil? no è pieno ci dà tutti quei gruppi si lo so veramente ugana usina un po' per un po' par che oggi c'è l'anno l'anno l'anno